Ordine pubblico, Covid, accoglienza ai tempi della guerra, domani la polizia compie 170 anni. Abbiamo parlato delle nuove sfide con il capo, il prefetto Lamberto Giannini, l'intervista. E di Alessio Zucchini, vediamo. Dopo l'emergenza Covid, una guerra alle porte di casa. Qual è il contributo della polizia? Beh, l'accoglienza è qualcosa di fondamentale. Dobbiamo garantire a chi fugge da questo orrore una accoglienza in sicurezza, una sicurezza anche dalla criminalità che tenta di aggredire queste persone in grande difficoltà e una grandissima solidarietà. Ci sono combattenti italiani su entrambi i fronti. Li state monitorando? Che profili hanno? C'è attenzione a queste persone che stanno combattendo. Generalmente sono soggetti che hanno già avuto delle esperienze in formazioni estremiste, anche in Italia, in formazioni sia dell'estrema destra che dell'estrema sinistra antagonista. Al momento sono impegnati in quel conflitto. È una dimensione diversa rispetto a quella dei foreign fighters che abbiamo avuto e che hanno combattuto, per esempio in favore del sedicente Stato islamico in Siria e in Iraq. È un fenomeno completamente diverso. Prefetto, lei era a Bari durante l'emergenza dei profughi albanesi. Dopo tutti questi anni che effetto le fare? Vedere le stesse scene? Fa effetto vedere tutte queste persone in difficoltà che raggiungono l'Italia con una grande speranza. Però le devo dire che sono stato recentemente a Tirana. Vedere adesso la bellezza di quella città mi dà una grande speranza, perché dopo la difficoltà c'è sempre una grande crescita. Grazie a tutti.